Salve, ben trovati, siamo al centro estetico Paradissea, al primo piano del palazzo adiacente la farmacia Vitolo per una nuova puntata di In Farmacia e sono in compagnia di Angela Ferrante. Salve Angela, oggi parliamo di un macchinario innovativo che è utile per il lifting. Sì, oggi vi proponiamo una nuova macchina che è un ultrasuono focalizzato ad alta intensità, un lifting chirurgico non invasivo. Ecco, quanto dura mediamente un trattamento? In pratica come tempistica è un'oretta, un'oretta e mezza. È doloroso? No, non è doloroso, non ha nessuna controindicazione. Ecco, mi chiedevo, i risultati sono immediati? Allora, qui vediamo il risultato immediato, poi più tempo passa dopo la seconda applicazione e più si vedono i risultati, è una grande novità. In realtà vengono fatti tre trattamenti l'anno, praticamente più o meno uno ogni tre mesi e quando ci avviciniamo al secondo trattamento vediamo dei miglioramenti eccezionali. E quali sono i punti in cui si può intervenire? Allora, possiamo lavorare su tutte le zone del viso. In particolare, la cosa più importante che dà fastidio un po' a tutte le donne e anche alle star è il collo. Queste zone qua dove si fanno come le chiamiamo noi le collanine, poi sul viso, il contorno occhi, la fronte, le rughe centrali sopra il naso, il naso labiale, un po' su tutto. Ecco, io volevo sottolineare una cosa, che non devono sottoporsi a questi trattamenti solamente le persone adulte, anche chi è giovane può farlo perché è comunque anche preventivo. Sì, è anche preventivo. Poi parliamo anche di tre testine che vanno a lavorare su la prima testina al collagene, la seconda sulla ruga e la terza che è la più profonda. Parliamo proprio dello smas, praticamente va a una temperatura di 60 gradi, in profondità. Noi in superficie non sentiamo niente, ma sotto fa un calore fortissimo che noi non sentiamo niente, né fastidi, né bruciore, assolutamente niente. Ecco, quindi risultati immediati e più passa il tempo, più si vedono il viso. Più si vedi ora. Esatto, allora non resta che venire qui al centro estetico Paradisa e provare questa nuova apparecchiatura, qualsiasi sia l'età. Una curiosità anche per gli uomini. Sì, anche per gli uomini. Perfetto, allora venite qui al centro estetico Paradisa e al primo piano del palazzo adiacente la farmacia Vitolo di via Siniscarchia, una cera inferiore. Grazie Angela. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie.